Ciao a tutti, finalmente siamo giunti a fine settimana, oggi è venerdì e nonostante il fatto che stamattina a Genova ci siamo svegliati con un tempaccio, adesso c'è un po' di sole, infatti se notate ho la stanza illuminata, non so se sentite ma di là c'è anche mio fratello che sta suonando la chitarra elettrica, perciò se sentite strani, strimpellate è lui di là che sta facendo le prove, vi giro questo video perché volevo farvi vedere i prodottini che mi ha inviato la veleda, la veleda mi ha inviato una bustona che mi è arrivata ieri in ufficio, avevo avuto contatti con la veleda, in particolare con la signora Cora, forse più di un mesetto fa, sinceramente questo pago è stato un po' una sorpresa perché non lo aspettavo ieri, in ogni caso mi hanno mandato dei prodotti da testare e del materiale informativo. Allora, dentro ho la busta, il contenuto della busta, ecco, tutto questo, vediamo se riesco a farvelo vedere senza far danni. Allora, ora vi faccio vedere le cosine uno per uno. Allora, innanzitutto c'è una lettera intestata a me, ve la leggo dove c'è scritto oggetto campionatura per recensione su Baracchi e Profumi, che sarebbe il mio blog. Allora, Gentile Rossana, finalmente riusciamo a inviarle la campionatura della linea viso Amand, come da sua richiesta del 23 gennaio. Sì, perché ho avuto contatti con Cora via mail, mi aveva chiesto quale linea mi fosse interessata, quale linea mi sarebbe piaciuta di più da testare rispetto a Bo, me ne avrà messe sei in lista e io ho scelto quella per peli sensibili. Allora, scrive, aggiungiamo un kit mini taglie delle creme fluide per il corpo. La novità di questa primavera e, in previsione del mese delle rose, qualche perla di bellezza della linea rosa moschietta. Chiediamo scusa per la lunga attesa dovuta a mancanza di forze operative nel servizio consumatori che si occupa di questo tipo di spedizioni. Per le descrizioni può consultare il catalogo oppure il nostro sito www.veleda.it dove trova informazione dettagliata sui prodotti e una scheda per ogni ingrediente in essi contenuto. Alle domande sull'utilizzo dei nostri cosmetici dietetici integratori risponde il servizio Dialoga con l'esperto veleda. Questo nostro sito trova informazione dettagliata sui prodotti e una scheda per ogni ingrediente in essi contenuto. Alle domande sull'utilizzo dei nostri cosmetici dietetici integratori risponde il servizio Dialoga con l'esperto veleda. Rimaniamo a disposizione per eventuali domande o chiarimenti e in attesa di una sua segnalazione dove, quando verrà, la recensione dei nostri prodotti. Cordiali saluti, ancora. È stata gentile, mi ha fatto piacere questa pacchetta. Poi veleda è una marca naturale, perciò sono sempre contenta di testare prodotti che so che sono buoni. Allora, mi ha aggiunto il notiziario veleda della primavera. È questo. E allora, non so se è fatto. Vabbè, non vedrete una mazza, però ve lo sfoglio così. Poi mi aveva messo un libretto informativo su tutti i prodotti, certificazioni dei loro prodotti, tutte le loro linee, la descrizione delle piante utilizzate, dei loro principi operativi, trattamenti viso, corpo, linee per pelli sensibili, pelli grasse. Per ogni linea ci sono tutti i loro prodotti, le dolce cremose. Queste qua sono buone, io avevo provato quella alla rosa moschietta, un campioncino, avevo comprato un campioncino, cioè una mini taglia e mi ha particolarmente piaciuto. Creme fluide, oli corpo, e poi ci sono linee specifiche, trattamenti speciali per il corpo, linee a capelli, linea generale, la linea per i bambini, allattamento, linea baby, sciroppi e succhi, linea raffreddamento, insomma. Ah, e poi ci sono tutti i loro prodotti, hanno aggiunto tutti gli inchi di tutti i prodotti, questa è una cosa molto interessante, questi sono tutti gli inchi, questi, di tutti i loro prodotti. Poi cosa abbiamo? Ah, vabbè, mi ha messo un foglietto della linea Amanda, quella per pelli sensibili che vi dicevo. che foglietto è fatta in questa maniera, qua ci sono tutti i prodotti della linea, ah, e per ultimo questo foglietto sulla cellulite, che è assolutamente magra, che non ce lo dite proprio, non mi fila, lo so direte, beh, buon per te, sono magra come uno stecco, e a me proprio, vabbè, passando ai prodottini, allora, mi ha messo 4 minuti taglie di creme fluide, allora, vediamo un pochino, non vorrei fare un video proprio di 7 km, però, lo sto facendo, allora, alla rosa moschita, al melograno, all'olivello spinoso, e al limone, poi abbiamo un olio cellulite alla betulla, che in ogni caso, magari, l'olio cellulite alla betulla rassoda e leviga la pelle, favorisce il sano equilibrio cutaneo, e poi c'è tutto l'inci, e poi, i prodotti della linea Amanda, che sono per la pelle sensibile, allora, mi ha mandato un trattamento idratale comfort per pelle miste e sensibili, non profumato, cioè proprio azzeccatissimo, è questo, perché la mia è appunto mista e sensibile, cioè proprio azzeccatissimo, un attimino, è un tubetto da 30 ml, calma e protegge, non profumata, questa mi incuriosisce molto, 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 anche perché, per chi segue il mio blog, sa che, chi segue il mio blog, sa che ho sofferto di dermatite seborroica, ed è un problema che non ho eliminato completamente, e perciò devo, per quanto riguarda la skin care, e la cura anche dei capelli, devo stare particolarmente attenta ai prodotti che uso. Poi, mi ha mandato due confezioni di latte detergente comfort, non profumato, detergente delicatamente, protegge dalla disidratazione, evitare il contorno occhio, poi mi ha mandato, un olio viso comfort, non profumato sempre della linea Amand, svolge un'azione riequilibrante e sostiene le difese cutanee, questo, e poi tre bustine di delle perle che diceva nella lettera, che sono perle olio cura levigante, sono queste qua, dice, attenuano prime rughe e preservano la vitalità della pelle, intensiva cura e revitalizzante. E niente, questi sono tutti i prodottini che mi ha inviato, volevo girarvi il video, giusto, di apertura del pacco, per mostrarvi tutto prima che inizio a spargere i prodotti per la casa. E niente, poi ovviamente farò delle foto dei prodotti, e in generale del contenuto della busta, che posterò sul blog insieme al video, e non appena avrò testato i prodotti vi farò sapere qualcosa. E niente, per questo video è tutto, ringrazio Cora per avermi mandato i prodotti, e vi mando un bacio. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!